Qual è il valore delle terri urbane in un contesto metropolitano? Mi sembra che questa storia nuova che si sta dando di acquistizione di grandi edifici per grande imprese internazionali e nazionali ci invita a pensare se c'è un'altra storia, non soltanto di questa acquistizione di proprietà, che è una vecchia storia in certi sensi, magari non a questa scala ma comunque è una vecchia storia, da vedere con chi ha la proprietà della terra urbana e lì una volta che incominci a cercare di capire quali sono i regimi illegali sulla terra urbana, non è facile, non c'è molto, in tanti casi non c'è veramente legge della terra urbana, soltanto di proprietà. Allora per me una domanda molto importante è il pericolo che questi grandi compratori di edifici producono dei contratti molto innovativi, delle leggi sull'acquisizione di queste proprietà che contengono dentro di loro questi contratti, contengono infatti già anche certe presunzioni di proprietà della terra urbana e quello mi sembra problematico, specialmente in un contesto dove hai una grande perdita di abitato generalizzato per il cambio climatico, per l'espansione della mineria, per l'espansione delle compre di terra, per fare delle plantazioni, hai tante modalità economiche oggi che stanno anche facendo espulsione di gente di certe terre urbane. Ascolti, i cinesi stanno tantissimo comprando in Africa, l'Europa deve impaurirsi di questo o no? Io credo che i cinesi sono fra i grandi compratori ma non sono gli unici, gli europei anche stanno comprando, non ci possiamo dimenticare di questo. Io credo che la domanda non è qual è la nazionalità di quelli che comprano, la domanda è che comprano e che sono i contratti che sviluppano quando comprano. Allora io veramente, parliamo molto dei cinesi, io certamente parlo, ma i cinesi sono soltanto un paese, ci sono 15 paesi che incluge Inghilterra, incluge gli Stati Uniti, incluge Svesia, Sweden, allora ci sono tanti, non è soltanto Cina o Dubai e Saudi Arabia, diciamo, no? Bisogna capire che questo è un fenomeno molto... Allora quello che importa è cosa comprano, come lo comprano, quali sono le condizioni che hanno nei loro contratti. Questi contratti non sono nello spazio pubblico, io sono molto interessato a recuperare. Quello che mi preoccupa è che stanno anche comprando la terra sotto la proprietà. Lei nel suo ultimo libro fa riferimento all'estrazione delle miniere, no? Facendo il paragone col sistema finanziario. Qual è la paura e quali sono le criticità di questo? Io credo che la modalità che domina oggi in questa economia, ai livelli più importanti, di più potere, che lasciano traccia grande, è una specie di logica di estrazione, stesso per settori che mai pensiamo come settori estrativi. Io credo che l'alta finanza, che è una cosa molto differente della banca tradizionale, è infatti un settore di estrazione, e per quello è così destruttivo. L'estrazione vuol dire che tu estrai, you extract, e poi lasci lì distruzione e te ne vai alla prossima opportunità di estrazione. Allora questo è molto serio. Questo è molto diverso della banca tradizionale, che ha bisogno di una comunità che prospera, perché se no non ha nulla. Allora confundire la banca tradizionale con le finanze è veramente un problema. Per me questi sono elementi che marcano la differenza entre oggi e diciamo il periodo che è inesiano. Ascolti, il problema migrazioni, l'Europa, soprattutto l'Italia, ha sofferto moltissimo dell'emergenza migrazioni. Cosa pensa lei di questo? Io credo che questi paesi come l'Italia, Grecia, anche Spagna, un po' meno oggi, ma comunque anche, sono in ingiustizia profonda. Che questi paesi, che infatti anche hanno sofferto la crisi, la crisi più duramente che qualche o tre paesi, che questi non siano responsabilizzati per quello che va male, diciamo, con tutto il flusso mercatorio, che siano responsabilizzati per maneggiare, per gestionare queste mercazioni, non si può chiedere questo. Specialmente quando poi altri paesi, Macedonia, gli altri paesi che fanno dei muri, così Grecia non ha opzioni. Grecia è adesso il caso più serio. Ed è una ingiustizia enorme. Io non so perché non c'è stata una risposta molto più intensa di tutta una serie di attori di non lasciare a Grecia lì di stop. Perché non... Cosa può fare? Allora, io credo che c'è questa massiva perdita di habitat. La guerra è la cosa più visibile, ma ci sono tante altre modalità. E questo diventa un processo a livello globale. Qui bisogna stabilire un regime globale. Non si può neanche responsabilizzare quelli che vengono buttati fuori per le minerie, che non hanno nulla a vedere con guerra, diciamo. Che questi sono responsabilizzati perché non possono dimostrare che sono rifugiati. Infatti sono rifugiati. E quando cambia il cambio climatico aggiungerà anche più di questi rifugiati che non sono riconosciuti nella legge internazionale. Noi dobbiamo fare legge nazionale, legge internazionale che genera un regime magari meno immediato che il UNHCR per i migranti di guerra, per i rifugiati di guerra, ma comunque un regime serio. Io credo che è una delle grandi sfide. Non sarà facile, ma neanche è stato facile con i rifugiati di guerra. Allora bisogna fare il lavoro. Ascolti, una delle soluzioni proposte è quella di creare delle opportunità di lavoro nei loro territori ed evitare che questa gente migra verso l'Europa. Lei cosa pensi di questo? No, io credo che questo è molto importante. Il problema è che le grandi corporations stanno eliminando le economie che avevano. Questi sono veramente rifugiati economici che hanno perso le loro... Ogni anno vengono buttati fuori delle loro terre, sia in Laos, Cambodia, Vietnam, sia in Sub-Saharan Africa, sia in Brasilia, in Argentina, sia in parti adesso anche dei paesi europei, specialmente East and Central Europe. I Saudi Arabiani hanno comprato tutta la terra in Bosnia. Allora, questo è un fenomeno mondializzato che bisogna fare un regime. Non si può responsabilizzare gli individui. Adesso è quello che facciamo anche perché non ci sono azioni, non esiste un regime. Allora non hanno la guerra come giustificazione, allora hanno ninguna giustificazione. Quello non è buono né per i paesi recettori né per i paesi di dove vengono. La situazione, per me, la categoria basica che bisogna sviluppare qui è una massiva perdita di abita, abita in un senso complesso, che affetta a milioni ogni anno che non ha nulla a vedere con guerra e non abbiamo un regime. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.